Un grandissimo ringraziamento qua a voi, che mi sostenete e che ci avete accolto con questo calore. Sarà molto difficile andare via. Grazie. Se è vero che ogni artista merita il pubblico che ha, allora forse, forse il dubbio mi viene che sono un'artista discreta. Ma il pubblico che ho è eccezionale. Spero di arrivare all'altezza del mio pubblico. Grazie per la fiducia che mi date. Buonanotte. Ed è l'unica cosa che mi hai lasciato. Triste, annoiata e asciutta Sarei la tua bene e la snorfia Triste, annoiata e asciutta Sarei la tua bene e la snorfia Triste, annoiata e asciutta Sarei la tua bene e la snorfia